Ti fa le feste e quando si avvicina un intruso, Goldy ti avvisa! Goldy, Goldy, scodinza la felice e viene da te a giochi preziosi! Cocoritos, io parlo e canto, se li coccoli cantano e ripetono esattamente quello che dici tu! Che carino, siamo amici, siamo amici! I Cocoritos, i Cocoritos, scegli quelli originali solo da giochi preziosi! Gli originali! Music! Sì, se no! Bruno è un coccolone, se lo abbracci, lui sorride, muove i musetti all'insù! Orsetto tenerone! Come tutti gli orsetti, Bruno è golosissimo di miele, ma è ancora un cucciolo! E si staventa con un rumore improvviso, falli il solletico e tornerà a sorridere! Bruno, ossetto tenerone! Giochi preziosi! Vero? Davvero! Dottoressa Peluche mini personaggi! Bianchina alla febbre, droghetto alla bua, a ognuno la sua cura! Colleziona tutti i mini personaggi con accessori Dottoressa Peluche! E c'è anche la mini clinica! Giochi preziosi! La dottoressa è qui! Alla ricerca di Dory! Personaggi Swiggle! Gli originali del film! Tutti da collezionare! C'è anche il camion playset di Hank! E con il maestro Ray! Li porti tutti sempre con te! Alla ricerca di Dory! Al cinema del 15 settembre! Da GIG! Da Disney Pixar, The Good Dinosaur, Il Viaggio di Arlo! Arrivano Arlo e Spot interattivi! Camminano insieme! Guarda, interagiscono! E Spot scherza proprio come nel film! Ma Batch è in agguato! Va al galoppo! Ruggisce! Batch Arlo e Spot! Giochi preziosi! È arrivato un nuovo supereroe! Mister Muscolo! Lo allunghi quanto vuoi! Fino a quattro volte la sua altezza! È forte! Super allungabile! Tiralo a nodolo! Tornerà sempre alla sua forma originale! Mister Muscolo! L'eroe super allungabile! Giochi preziosi! Novità! Le famiglie di... Peppare! Ma guarda che famiglie! Sono vere meraviglie! Le mamme, i papà E i loro cucciolotti Si muovono compatti I cani come i gatti Si tendono per la coda Il trenino va di moda! Peppare! Se non hanno il ciuccio in bocca! Peppare! Scocca l'ora della pappa! Peppare! In famiglia sono in tanti! Peppare! Adottali tutti quanti! C'è anche il carry kit delle famiglie! Peppare! Dinofrozz Dragon's Revenge Salva il mondo dalla vendetta di Dragonmon E dei draghi malvaci Con i fantastici Dinofrozz Ognuno con una speciale mossa d'attacco Inventa scontri spettacolari E ora, nuovi personaggi Sempre più grandi Grandissimi! Rivivi le avventure della serie tv Con DinoWatch Dinofrozz e Morussa! Dinofrozz Dragon's Revenge! Giochi preziosi! In Hero 6 Un'avventura straordinaria Il malvagio yokai minaccia San Fransokio Solo tu con Hero e Baymax Puoi sconfiggerlo Apri le ali di Baymax E vola insieme a Hero Verso la vittoria Baymax è un grande e invincibile eroe Il suo pugno è un razzo micidiale E ci sono anche i personaggi originali del film Tutti da collezionare Big Hero 6 Baymax E gli eroi protagonisti del film Solo da Giochi preziosi Una magia di regali Calzettone Frozen Puoi trovare i fantastici make-up per un look brillante La borsetta cuore Le principesse Elsa, Anna Lo sticker luminoso Magico! E tante altre sorprese Calzettone Frozen Una magia di regali Da Giochi preziosi Tartaluga Ninja Arriva il calzettone delle Tartals Trova una delle armi speciali e combatti Difendi la città Chi ha robazia con gli skate E tante altre sorprese Calzettone Ninja Tartals La mossa giusta Giochi preziosi Dino Frots Con lo Spin Rock Ti trasformi nei Dino Frots più potenti Dino Frots Evolution Attivali con le special cards Prendono vita come nel cartone Dino Frots Evolution Dino Frots gemeinsam Giochi preziosi Giochi preziosi Grazie a tutti.